Amici di G-Style, questa è la puntata numero 215 con Stefano D'Alberto che vi introduce agli argomenti di questa nuova avventura, nuova puntata con tante inaugurazioni ed eventi importanti ricordiamo sempre presenti sul digitale ma non solo, anche e soprattutto sul web ricordo l'inaugurazione, quella che abbiamo seguito al Parimpampu e poi a seguire Human Zone Studio tra i nostri argomenti anche ospite in studio, Anna Linda Barini con la seconda parte dell'intervista Emozioni d'Abruzzo, questo ristorante che ha portato un evento molto interessante nel periodo di agosto e poi uno shooting fotografico con Giulio Gennari inaugurazione anche di una palestra, quella che conosciamo col nome di Gym City con Pescara SD e ancora un appuntamento dedicato alla commedia, alla cabarea, all'intrattenimento quindi Marco Papa e Vincenzo Livieri, rivediamo qualche momento saliente del loro spettacolo Facciamo la Commedia e per concludere le immagini del nostro drone, immagini dall'alto quindi una buona puntata anche a voi con G-Style G-Style, ti segue in movimento, racconterà per voi le storie più belle Il tuo filmato preferito sempre in tasca, ci trovi su Youtube G-Style TV Quanti ci seguono? Vai su Youtube G-Style TV G-Style, seguici e vedrai